Allora, riprendiamo queste varie varianti sui metodi di costruzione del grafio, dove la differenza tra le varie varianti è il metodo che usiamo per passare dall'ID alla fermata. La variante 2B ci dice, fai in modo che il DAO restituisca già l'elenco di oggetti fermata. E come può fare il DAO a restituire un elenco di oggetti fermata? Ricordiamoci che il DAO non sa nulla del model e non vogliamo che sappia nulla del model, quindi l'unico modo che avrebbe il DAO per restituire l'elenco delle fermate connesse sarebbe di ricostruirle, così come già faceva il metodo getAllFermata che costruiva oggetti fermata su tutte le righe, è il primo che abbiamo chiamato, potremmo ricostruire anche qua degli oggetti fermata sulla base degli ID che abbiamo selezionato. E quindi avremo un metodo molto simile a questo qua di getAllFermata dove restituisci una lista di oggetti fermata nuovi creati ex novo attraverso la new che saranno identici in realtà agli oggetti che già abbiamo, vabbè ma non importa tanto la equals dei set riconosci che sono uguali, però li ricostruisco nuovi però anziché fare una query diciamo su tutti senza nessuna clausola where possiamo limitare questa query solamente a sotto insieme degli ID che ci interessano, quindi un modo per farlo potrebbe essere, io uso la stessa query di prima, quella della getAllFermata, dove dirò che però where l'ID fermata in e ci metto magari una query annidata, ci metto annidata la query che mi dà l'ID. Adesso vediamo se ho beccato la sintassi giusta e se quella del primo colpo. Sì, mi è andata bene. No, qui cosa ho fatto qua? La select che mi dà tutte le fermate, dove ho aggiunto la clausola where ID fermata in sotto query, che è quella che abbiamo fatto un attimo fa, subito prima l'intervallo con gli ID delle fermate. Quindi dentro questo in ci stanno questi tre numeri. Se la fermata è una di queste tre, allora restituiscimi questi campi. Lo posso fare con una sotto query, lo posso fare con una join, ci sono tanti modi, per fare la stessa cosa. Allora, usando questo metodo posso creare un metodo nel DAO che sia analogo a getAllFermate, ma solamente limitato a queste, quindi un po' un ibrido tra i metodi di prima. possiamo provare a scriverlo. È un metodo, a questo punto, che si chiamerà getFermateConnesse e non IDFermateConnesse. Tolgo l'ID perché mi dà, a questo punto, non più una lista di integer, ma una lista di fermata. E questo metodo è molto simile a quello che mi eserisce tutte le fermate, quindi posso fare una copia e incolla direttamente di getAllFermate, dove cambio la query e ci metto la query che abbiamo appena costruito, quell'anni data. Quindi questo lo metto nel corpo di questa, dove però vado a modificare la query, aggiungendo questa, sistemando come sempre gli spazi. Al posto di 460 metto il punto interrogativo. Quindi ho la signature del metodo getIDFermateConnesse che ha questo parametro, fermata di partenza. Il valore come parametro. Come valore di ritorno anziché list di integer ho list di fermata. Come query non ho la query che mi restituisce tutte le fermate, ma solo quella che mi restituisce il sottoinsieme che ha una determinata stazione di partenza. Quindi qua devo ancora aggiungere tra il prepare statement e l'execute query il setInt, statement.setInt per impostare il primo parametro al valore partenza.getIDFermata. quindi ho un pochino violentato la query getAllFermate, limitandola a un sottoinsieme di fermate che soddisfa questa condizione.getFermateConnesse. Fatto questo posso usare questo metodo nel model, questo punto sarà molto semplice perché io avrò for fermata di partenza di tutte le fermate, avrò una lista di fermata che sono le fermate di arrivo, chiamiamola arrivi, dao.getFermateConnesse connesse a questa di partenza, per ciascuna fermata di arrivo presa da questi arrivi, crea un arco. creo un nuovo arco quindi dis.graph.addEdage partenza-arrivo. cioè come compattezza è simile quasi al caso 1 con la differenza che anche qua ho due cicli un ciclo più esterno sui vertici il ciclo più interno non su tutti i vertici ma solamente sui vertici che so già che siano adiacenti e quindi il ciclo interno non ha 600 ma ha 2, 3, 4 abbiamo visto 2, qualcosa come numero medio di iterazioni quando io faccio questo add-edge sto passando due oggetti al grafo due oggetti di tipo fermata il primo oggetto è un oggetto che c'è già dentro il grafo sto iterando sulla lista partenza che è la stessa lista da cui è stato costruito il set ma qui potrei mettere come dicevamo prima anche il vertex set del grafo sono sempre gli stessi oggetti gli oggetti che ho creato che ha creato il DAO qua invece l'oggetto arrivo in questo caso è un oggetto che non esiste ancora è un oggetto nuovo che non esiste nel grafo ma non importa l'importante è che questo oggetto è equals a un oggetto che invece nel grafo esiste e allora in questo caso lui collegherà ovviamente l'oggetto giusto quindi io quando creo due archi posso crearli passando o sempre due oggetti di tipo vertice e questi oggetti di tipo vertice possono essere gli stessi oggetti che sono già nel grafo o altri oggetti che siano ad essi uguali per farlo uguale devo lavorare un pochino di più sul DAO che deve ricaricarsi dei dati che in realtà già conoscevo allora vediamo se questo che abbiamo detto è vero quindi commentiamo questo 2 a e proviamo a far funzionare il 2b che mi dà lo stesso per fortuna lo stesso risultato ok dove stiamo pagando tutto lo stiamo pagando qua la query è più complicata e in qualche modo ci viene ci sembra quasi di fare un lavoro inutile perché sto ricostruendo degli oggetti fermata che in realtà avevo già nella variante 2a mi dava fastidio dover iterare tutte le volte questa lista per andare a cercare l'oggetto fermata di arriva dato l'id la sintesi dei due metodi è questo che abbiamo chiamato 2c cioè costruirci una mappa che mi permetta rapidamente di passare da un id a un oggetto fermata la possiamo creare direttamente qua subito insieme all'oggetto fermate perché magari può servire è un pattern abbastanza utilizzato quando ho una struttura dati sequenziale posso aggiungere a questa struttura dati degli indici diciamo così per poter andare a pescare direttamente l'elemento che mi serve all'interno della struttura dati non faccio solo la mappa non faccio solo la lista le faccio entrambe e poi userò l'una o l'altra secondo lì cosa mi fa comodo significa crearsi una mappa che mappa integer perché integer è il tipo di dato dell'identità di quell'oggetto fermata che è il tipo di oggetto che mi serve crea una new hash map di integer fermata e popolo adesso qua devo fare un po' di import di java.util mappa java.util hash map poi ecco mi sono dimenticato di dargli un nome il nome può essere fermate id map qui sono troppe parenti ritonde ok creo una mappa che dato un idmer si truisca all'oggetto corrispondente e la posso popolare visto che ho appena letto le fermate la posso popolare immediatamente for fermata f due punti fermate fermate id map punto put put chiave valore la chiave è f punto id fermata il valore è f stesso ok quindi tutte le volte che io ho comodo ottenere un id e mi serve l'oggetto faccio un look up semplicemente una ricerca all'interno di questa mappa un get all'interno di questa mappa e questo mi dà se vogliamo il meglio delle due opzioni usando questa struttura dati di appoggio in più posso implementare il metodo che abbiamo chiamato 2c for fermata di partenza due punti fermate vado a calcolare la lista degli id come nel metodo 2a id arrivi come l'avevo chiamato id connesse esattamente lo stesso istruzioni di prima uso l'id delle fermate connesse itero sugli id ma a questo punto ho dato un id per ottenere l'oggetto arrivo non devo più iterare su una lista ma la fermata di arrivo la chiedo semplicemente all'idmap quindi fermate idmap punto get id ti do un id numerico mi restituisci l'oggetto che è l'oggetto che ti ho messo dentro prima ovviamente ma questa è un'operazione che avviene in tempo costante come look up in una mappa e non richiede una scansione in una lista che può essere anche lunga in questo caso sono 600 ma potrebbe anche essere varie migliaia di elementi e allora finalmente aggiungo sto arco ok la chiamiamo identity map perché parte dall'identità dell'oggetto c'è la sua chiave il suo campo chiave e mi restituisce mi garantisce in qualche modo di non creare mai dei doppioni di oggetti quando mi serve un altro oggetto uguale vado pesco l'id e se quell'oggetto c'è già riuso lui altrimenti vabbè devo crearlo in questo caso stiamo creando tutti all'inizio quindi è facile poi in questo esercizio queste due strutture dati la lista di fermate e l'idmap di fermate le ho messe come variabili locali dentro crea grafo ma se avessimo più metodi che lavorano col grafo probabilmente le vorremmo mettere come variabili di classe come proprietà della classe model così ce la ricordiamo visto che abbiamo fatto del lavoro per calcolarle mannaggia ce le teniamo memorizzate anche per gli altri metodi dipende poi dai casi in alcuni casi uno potrebbe anche passare l'identity map al DAO il DAO poveretto qua get fermate connesse se avesse l'identity map potrebbe evitare di fare questo lavoro qua lui ovviamente nella query deve sapere quali sono gli id e lo sa solo lui ma poi per passare dall'idea all'oggetto anziché di crearne un altro uguale magari ce n'è già uno pronto lo va a pescare da lì diventa una sorta di cache di oggetti già pronti ci sono vari modi di usare questo pattern questa struttura dati di appoggio a seconda dei casi più o meno complicata un warning che vi voglio dare è che noi stiamo vedendo varie casistiche vari modi non fate l'errore di tuffarvi su quello più complicato perché vi sto presentando come se fossero migliori diciamo così via via migliori allora verrebbe da dire ok parto direttamente dal fondo faccio l'identity map faccio la query con gli id eccetera in un problema che magari si risolve facilmente con un doppio loop perché lì non ci sono problemi di dimensione del grafo quindi stiamo giocando insieme con varie tecniche varie varianti non per perdere tempo ma perché tutte possono essere utili a seconda del contesto quindi scegliamo quello che ci sembra più adeguato e ricordiamo che il tempo più importante che dobbiamo minimizzare non è tanto il tempo di esecuzione ma il tempo di programmazione in cui riusciamo a risolvere l'esercizio anche se è un po' più lento il programma ma sia corretto è meglio che avere un programma più veloce ma che non riusciamo a finire perché ci stiamo incasinando con un codice troppo complicato quindi ricordatelo sempre non rendete una cosa più complicata se non è necessario ok questo metodo 2C l'abbiamo provato noi non l'abbiamo ancora provato quindi commentiamo il 2B proviamolo ci conferma che il grafo è sempre lui è sempre lo stesso penso ecco il numero di archi è uguale poi bisognerebbe andare a controllare esattamente quali sono questi archi il metodo 3 che cos'è beh il metodo 3 dicevamo brevemente prima della pausa è delegare quasi tutto il lavoro al database se già il database mi desse l'elenco delle coppie di vertici da collegare beh nel model non ho quasi più nulla da fare e l'elenco delle coppie di vertici da collegare in questo database specifico è banale è addirittura più facile degli altri da ottenere perché basta semplicemente andare a pescare dalla tabella connessione select prom connessione cosa è i due campi che sono l'id di partenza e l'id di arrivo beh ovviamente andranno un pochino filtrati perché qui avrò dei doppioni dovuti al fatto che ci sono più linee tra coppie di stazioni quindi magari ci metto un bel distinct che da 1476 mi fa scendere 1428 righe eliminando i duplicati 1428 è già il numero di archi che ci servono non già loro quindi potrei ottenere direttamente una lista di coppie di id e sulla base di questo costo di miliardi avendo fatto l'identity map lavoro tranquillamente con gli id perché da id a oggetto è un attimo l'unica cosa pallosa di questo è crearsi un oggetto è che sia in grado di contenere due numeri perché devo restituire una lista di coppie di numeri devo costruire un oggetto scemo coppia id che contiene int id partenza id fermata id partenza chiamiamolo e int id arrivo con tutti i suoi santi metodi questi sono i momenti in cui viene da odiare java costruttore catter setter e basta direi non li mettiamo in un esce quindi non mi servono le scode equals questo vuol dire che il mio DAO a questo punto potrà restituirmi calcolarmi già direttamente tutta la coppia di d quindi torno nel DAO aggiungiamo un altro metodo public lista di che cosa di coppie di d e sarà get connessioni get fermate connesse si chiama come l'altro no? get all fermate connesse mettiamo un all per dire che sono tutte e non ha parametri questo vedete che siamo andati avanti da una funzione che aveva due parametri fermate di partenza e fermate di arrivo e mi dice connesso o no ha un metodo che avesse un parametro solo fermate di partenza e mi dava tutte quelle di arrivo ha una cosa in cui non gli dico nulla e mi dà tutto come con la stringa con la query che abbiamo appena visto qua ripeto questo sembra tanto più semplice perché abbiamo già una tabella di database pronta con i dati che ci servono non sempre sarà così dipende dal criterio con cui dobbiamo creare gli archi e in questo caso qui dobbiamo fare la solita cosa get connection statement prepared statement uguale connesso punto prepare facciamo try catch dal prepare statement facciamo la query non ci sono parametri da impostare result set quindi possiamo immediatamente eseguire la query e per ogni risultato restituisco una copia id quindi list copia id uguale new new array list di copia id qua result set punto next a tutte le righe del risultato result result punto add una nuova copia id che vada da result punto get id int della colonna che si chiama id stazione di partenza a secondo parametro di copia id del costruttore copia id è l'id della stazione di arrivo quindi result punto get int id stats arrivo quindi per ogni riga estrago l'id della stazione di partenza e la stazione di arrivo li uso per creare un nuovo oggetto copia e questo oggetto copia lo appendo al fondo del result quando ho finito questo ho finito connection punto close e return result altrimenti return null questa cosa qui nel modello come la usiamo la usiamo facendo calcolare questa lista di id e poi iterando su questa lista di id per ogni coppia creando un arc in questo caso avrò non ho il ciclo for fermate eccetera eccetera lista di coppia id uguale fermate da collegare uguale dao punto get all fermate conness e quindi coppia id per ciascuna coppia di id coppia due punti fermate da collegare aggiungerò al grafo un arco che collega cosa collega la fermata il cui id è il primo elemento di questa coppia quindi sarà fermate id map get coppia punto get id partenza quindi la prima coppia prendo il numerino il primo numerino e la partenza vado a vedere l'identity map per ottenere l'oggetto fermata che è il punto di partenza dell'arco idem per il punto di arrivo dell'arco sarà fermata id map punto get coppia punto get id arrivo e il risultato continua a essere lo stesso qui qui tutta la responsabilità è sulle spalle del dao che mi dice esattamente cosa devo fare il model qui non sta pensando a nulla il model ha la vita relativamente facile perché avendo l'id map ha facilità passare dall'id alla fermata altrimenti deve lavorare un pochino di più il model per fare questo passaggio allora queste varie varianti le troviamo un po' sempre ogni volta che abbiamo un esercizio devo creare un grafo mentalmente magari anziché metterci due ore come abbiamo fatto stamattina per la prima volta ci mettiamo magari 20 secondi a ragionare su quale strada prendere pro e contro devo fare la qui di più semplice la qui di più complicata la identity map la faccio oppure non la faccio faccio un ciclo doppio ciclo semplice oppure delego tutto il database di volta in volta troviamo la soluzione migliore dipende anche da voi stessi se vi trovate meglio siete magari più bravi di SQL allora vi trovate bene a fare una qui di più complicata oppure su SQL non siete tanto sicuri siete più sicuri sul lavorare sulla collection allora cercate di far lavorare di più il model e meno il database tanto quello che conta è il tempo complessivo scusate il risultato complessivo non portatevi a casa il messaggio che il metodo 1 sia sempre il più lento a volte non è il più lento no? io ricordo in alcuni esami in cui c'era ragazzi che si incapponivano sul metodo 3 facendo una query che facesse tutto questa query era talmente complicata che MariaDB non ce la faceva e quindi quella singola query tasava il computer rallentava non andava più avanti mentre invece quel grafo era un grafo piccolo e quindi fare più volte una query più semplice era quasi immediato rispetto all'altro caso no? quindi a priori non è detto quale sia il metodo migliore dipende dal caso specifico dimensione del grafo densità del grafo e complessità nel decidere se devo mettere un arco oppure no dipende dai casi ok avendo creato il grafo cosa ce ne facciamo? vabbè la cosa più semplice oltre che stamparlo che però lascia un po' il tempo che trova è quella di cercare dei percorsi e quindi cercare l'informazione sul grafo nel momento in cui l'abbiamo costruito è un'informazione locale dato un vertice qual è il vertice adesso adiacente però il grafo è utile perché queste informazioni locali si concatenano in percorsi quindi dato un vertice posso raggiungere non solo quello vicino ma posso esplorare sistematicamente il grafo alla ricerca di tutti gli altri vertici raggiungibili di un vertice dato quindi noi possiamo chiederci come fare dato un grafo partendo da un vertice di partenza a trovare gli altri vertici che si possono raggiungere raggiungibili cosiddetti come l'abbiamo definito quindi non solo connessi direttamente ma raggiungibili attraverso un percorso più o meno lungo e anche capire quali sono tutti i vertici raggiungibili di un grafo in questo caso stiamo parlando di una metropolitana e si presuppone che sia un grafo connesso cioè non mi servirebbe nulla avere dei grafi della coppia di stazioni che non sono raggiungibili l'una dall'altra mi aspetto che da ogni vertice sia possibile raggiungere ogni altro vertice del grafo se no qualcuno ha progettato un pochino male la rete essenzialmente e come si quali sono gli algoritmi per visitare un grafo allora noi faremo due passaggi il primo passaggio è capire come trovare tutti i vertici raggiungibili il secondo passaggio sarà una volta che ho trovato i vertici raggiungibili qual è il percorso per raggiungerli c'è un conto avere un algoritmo che ti dica che partendo da qui puoi arrivare là e questa è un'informazione l'insieme di quali sono i vertici raggiungibili ma poi a volte mi serve anche sapere sì ma come ci arrivo quindi qual è almeno uno dei percorsi possibili per raggiungere il punto d'arrivo dal punto di partenza in questo caso dove questo grafo come dicevamo è fortemente ciclico dati i due punti ci sono molti cammini che li possono collegare alcuni più furbi altri meno furbi in termini di che cosa e vabbè lì poi dipenderà dai casi in termini di tempo di distanza di numero di tratte numero di cambi numero di fermate boh ok gli algoritmi di visita sono i due algoritmi classici che appunto dovreste già in qualche modo ricordare dalla ricerca operativa sono gli algoritmi di visita in ampiezza o gli algoritmi di visita in profondità del grafo l'algoritmo di visita in ampiezza è un algoritmo che parte da un vertice sorgente il punto di partenza e cerca come prima cosa di trovare i vertici adiacenti tutti i vertici adiacenti al vertice di partenza quelli che chiameremo vertici di livello 1 direttamente adiacenti alla sorgente poi da ciascuno di questi vertici di livello 1 va a vedere i suoi adiacenti che costituiranno i cosiddetti vertici di livello 2 e così via qui c'è lo pseudocodice che dice io parto da un vertice sorgente e lo chiamo livello 0 s0 sono i vertici del livello 0 poi prendo un determinato livello e calcolo tutti i vertici del livello successivo l più 1 che abbiano queste due proprietà siano adiacenti ad almeno uno dei vertici del livello l quindi i vertici del livello 3 saranno quelli adiacenti a quelli del livello 2 che non siano ancora stati visitati cioè che non siano ancora presenti in nessuno dei livelli precedenti e quindi mi espando diciamo per cerchi concentrici fino a quando chiaramente non troverò un livello che è vuoto cioè nel senso che da un certo livello al livello successivo non riesco ad aggiungere nessun vertice nuovo perché o non ci sono archi uscenti oppure gli archi uscenti portano verso vertici che ho già visitato in precedenza quindi su questo graffetto di esempio se vogliamo applicare l'algoritmo di visita in ampiezza partiamo dal vertice s che è il livello 0 costituisce l'insieme di vertici di livello 0 per definizione di partenza calcoliamo l'insieme di vertici di livello 1 che sono quelli adiacenti al livello 0 cioè ad s non ancora raggiunti quindi r e w r e w costituiscono il livello 1 i vertici di livello 2 sono tutti quelli adiacenti a quelli del livello 1 quindi adiacenti a r o adiacenti a w ma non ancora visitati quindi escludendo s escludendo r e w stessi quindi adiacenti a r che non siano né r né s né w troviamo v adiacenti w che non siano né r né s né w troviamo t e x quindi il livello 1 di una visita in ampiezza di un grafo è costituito da v t e x come era presentato qua v e x non sono collegati non importa v è nel livello 2 perché è collegato da almeno un vertice del livello 1 quindi questi cerchi concentrici che via via si allargano anche se chiamarli cerchi richiede una certa fantasia contengono dei nodi che non necessariamente sono collegati tra di loro ma sono sicuramente collegati a quelli del cerchio precedente e ovviamente a livello successivo aggiungerò a livello 3 u e y questa tecnica di allargamento ovviamente se provassi a calcolare il livello 4 non trovo nulla perché gli adiacenti ai vertici di livello 3 che sono y sarebbero t e x ma sono già stati visitati e quindi sono già nel livello 3 e non possono essere nel livello 4 sono già nel livello 2 e non possono essere anche nel livello 4 quando questo algoritmo si esaurisce perché non riesce più ad aggiungere vertici vuol dire che l'unione di tutti questi insiemi di livello che ho trovato costituisce l'insieme di tutti i vertici raggiungibili a partire dal vertice sorgente dato in questo caso era un grafo non orientato ma forse il grafo orientato non cambia nulla ovviamente seguirei solamente le frecce uscenti e ignorerei quelle entranti il vantaggio il vantaggio di questo tipo di algoritmo è che mi garantisce di trovare un vertice ridungibile nel numero minimo di passaggi cioè se io ho tre livelli significa che in tre passaggi riesco a raggiungere a partire dal vertice s di partenza qualunque altro vertice e il numero di livello mi dice qual è il numero minimo di passaggi cioè la lunghezza minima in termini del numero di archi del percorso dalla sorgente al nodo questo algoritmo per ora non mi ha detto come faccio a raggiungere non mi sta dicendo come fai qual è il cammino per arrivare a y mi sta dicendo ho scoperto un cammino lungo 3 poi bisognerà analizzare questo risultato per capire qual è questo cammino ma questo è un passaggio successivo ma di sicuro i cammini che trovo sono quelli di lunghezza minima per costruzione dove come lunghezza del cammino ricordiamoci è il numero di archi attraversati poi se questi fossero archi pesati quindi uno conta più dell'altro allora non è detto che avere il numero minimo di archi mi dia il peso minimo complessivo lì ci arriveranno alcuni più complicati a valle della della visita è qui è però possibile identificare e da qua possiamo ricostruire i cammini un albero cosiddetto albero di visita cos'è l'albero di visita è l'albero che contiene gli archi che sono stati utilizzati per scoprire nuovi vertici ricordate quando abbiamo fatto il livello A2 abbiamo detto aggiungiamo V perché è adiacente a R abbiamo usato quest'arco per aggiungere V e così come abbiamo usato quest'arco per aggiungere X perché era adiacente W allora se noi man mano che andiamo avanti nella visita ci segniamo quali sono gli archi che abbiamo usato e ci hanno permesso di scoprire un nuovo vertice da inserire a livello successivo l'insieme di questi archi forma un albero un albero perché è connesso per costruzione stiamo cercando i vertici connessi raggiungibili è un albero perché è aciclico la mia regoletta che mi dice non posso mettere nel livello successivo un vertice che ho già visitato prima mi permette di evitare di costruire dei cicli non posso mai tornare su un vertice che c'era già quindi è un albero l'albero contiene i cammini minimi tutti i cammini che partono da S e raggiungono gli altri vertici nel numero minimo di passaggi questo in generale è l'albero della visita in ampiezza che ha questa proprietà carina che raggiunge ogni vertice nel numero minimo di passaggi quindi l'operazione di visita mi dà due risultati se voglio il primo risultato quello proprio in situ nella visita mi dà l'insieme dei vertici raggiungibili il secondo risultato se faccio attenzione durante la visita mi dà l'albero dei cammini per la visita in ampiezza questo albero dei cammini mi permette non solamente di dire y è raggiungibile ma anche come ed essendo un albero il come è univoco non devo andare a fare algoritmi complicati vediamo poi come farà a rappresentarlo questo albero ecco l'algoritmo di visita in ampiezza non è l'unico algoritmo di visita esiste anche la visita in profondità che è l'esatto duale perché mentre la visita in ampiezza non si allontana dalla sorgente finché non ha esplorato tutti i vertici a una certa distanza dalla sorgente stessa l'algoritmo della visita in profondità invece parte e va va fino in fondo finché può poi se non trova più se trova vicoli chiusi vicoli ciechi scusate torna indietro e prova altre alternative la visita in profondità si presta molto ad essere implementato come procedura ricorsiva io sono su un vertice va bene ho degli adiacenti quanti sono cinque va bene mi sposto sul primo e poi vedo quando sono sul primo degli adiacenti gli altri quattro li ho messi da parte e vado a visitare i miei adiacenti a mia volta come fa una procedura ricorsiva normalmente quindi prima va in fondo in fondo in fondo a valutare tutte le conseguenze della prima scelta che ha fatto poi eventualmente torna indietro e valuta delle scelte alternative l'observo codice qui è banale dice ci sono parte da un vertice V o la procedura di visita death first in profondità e dice guarda da questo vertice V dimmi quali sono quelli a lui adiacente se sono già visitati ok l'ho già visitato se non l'ho ancora visitati questi vertici visitiamoli cioè segniamoli aggiungiamoli all'insieme dei vertici raggiungibili e poi in profondità andiamo su questo vertice e quindi in profondità andrò su V a sua volta V diventerà V cercherò gli adiacenti di quello che prima era V e come prima cosa cercherò gli adiacenti di sui adiacenti eccetera eccetera andrò avanti così poi solo quando non trovo più nulla il caso terminale non ce l'ho e quello terminale qua non trovo più nulla di non visitato oppure non trovo più adiacenti ho trovato un vertice che non ha non ha altri archi e allora la recursione è obbligata a tornare indietro e se ci sono ancora alti adiacenti non visitati li visita una cosa che da notare è che questo controllo dei visited lo faccio dentro il ciclo four questo vuol dire che se io quando inizio la ricorsione ho cinque adiacenti all'inizio inizio sono tutti non visitati poi vado giù prendo il primo e vado giù ricorsivamente quando torno indietro avendo finito di esplorare il primo mi restano gli altri quattro ma magari alcuni di questi quattro li ho già visitati arrivando da una strada contorta mentre facevo ricorsione sul primo quindi non è detto che quando torno indietro se prima erano cinque adiacenti siano ancora cinque perché magari alcuni li ho già considerati questo lo si vede anche facendo questo applicando l'algoritmo su questo nostro grafo semplice di esempio s a due adiacenti r e w la visita in profondità cosa dici ok prendi r oppure prendi w dipende io quelli sto prendendo in ordine alfabetico tanto per darmi un ordine dipende la ricorsione in che ordine li sta navigando e fai ricorsione su r su r rifai la stessa operazione quali sono i miei adiacenti s e v s non lo posso prendere perché è già preso quindi prendo v poi faccio ricorsione su v dico v quali adiacenti hai ho solo r ma è già stato preso quindi non ho niente da fare e allora torno indietro su r e mi chiedo r hai degli altri adiacenti non ancora visitati no allora torno su s e gli chiedo s hai degli altri adiacenti non ancora visitati sì w allora giù ricorsione su w e chiedo w hai degli adiacenti sì ne ho tre s t e x non ancora visitati beh t e x ok cominciamo da t prima di considerare x chiedo a t t hai degli adiacenti non ancora visitati beh gli adiacenti avrei w x e u prendo il primo prendo u poi vado da u e dico tu hai sempre la stessa domanda e lui mi dirà beh gli adiacenti non visitati c'è y ok aggiungiamo y e facciamo ricorsione su y y e y ha x e quindi prendiamo x e facciamo ricorsione su x a questo punto x hai altri adiacenti anzi no altri faccio ricorsione su x e gli chiedo hai degli adiacenti non ancora visitati no perché i miei adiacenti sono w t e y sono già stati tutti visitati ok non ho nulla da aggiungere la ricorsione torna su y hai altro no la ricorsione torna su u hai altro da aggiungere no la ricorsione torna su t e t prima aveva x come adiacente non visitato prima quando abbiamo scoperto t lui aveva u e x ma adesso tornando indietro va a vedere ah ma no x nel frattempo è già stato visitato va bene allora non ho nulla da fare allora torno a w w anche lui aveva x che potenzialmente avrebbe voluto visitare ma nel frattempo è già stato visitato per un'altra strada e torna indietro su s e s ovviamente non avendo altro termine della ricorsione l'insieme dei vertici che ho raggiunto ovviamente è lo stesso di prima sono tutti i vertici raggiungibili a partire da s quindi il risultato 1 dell'algoritmo di visita cioè l'insieme dei vertici raggiungibili è identico è indipendente dall'algoritmo di visita che uso l'albero dei percorsi di visita invece è diverso sostanzialmente diverso uno potrebbe dire sì però hai fatto dei percorsi abbastanza stupidi ma guarda che giro mi hai fatto fare per arrivare a x vabbè ci sei arrivato sì boh non lamentarti non mi hai mica chiesto di trovare i percorsi più brevi mi hai chiesto di trovare dei percorsi se esistono sì o no l'algoritmo di visita in profondità è molto più semplice da implementare proprio perché sono due righe di ricorsione ma ovviamente mi porta a dei percorsi che tendono a essere tutt'altro che minimali perché lui parte e tende a andare prima esplorare lontano e poi dopo eventualmente tornare a esplorare anche qua io ho identificato nel fare la visita gli archi che ho usato per scoprire nuovi vertici quindi anche qua l'albero di visita è definito nello stesso modo gli archi utilizzati per scoprire nuovi vertici qui c'è un esempio sugli archi orientati ma non cambia nulla ok questi sono i due algoritmi che abbiamo principali che abbiamo rapidamente ripassato adesso questi algoritmi come li implementiamo in Java ci dovremmo mica mettere a scrivere la procedura ricorsiva o la gestione degli insiemi a livelli no cioè se vogliamo si avete una notte insonne ve lo potete implementare ma se no nella libreria nella libreria creano un iteratore come l'iteratore della lista che dato puoi iterare su una lista ogni elemento ti dà quello successivo come l'iteratore di JDBC del database realset.next ogni volta l'elemento successivo ecco anche nell'algoritmo di visita ogni volta mi dà il vertice successivo che ha scoperto nell'ordine in cui li scopre quindi attenzione non mi restituisce una sequenza di vertici collegati tra di loro da un cammino no mi restituisce gli elementi dell'insieme via via che vengono scoperti e come abbiamo visto due elementi consecutivi nell'ordine di scoperta non è detto che siano adiacenti per niente ad esempio v e w ricordata di corsione sono andato su v ho scoperto v poi sono dovuto tornare indietro e ho scoperto w quindi l'iteratore di una visita in profondità mi darà i vertici nell'ordine s r v w t u y x questo è l'ordine in cui li ho trovati ma dopo v mi vedete w non vuol dire che siano collegati quindi l'ordine di questo iteratore non corrisponde a un cammino nella visita in ampiezza lo vedevamo ancora di più quando abbiamo detto guarda i vertici di un certo livello non è detto che siano collegati tra di loro in questo caso l'iteratore di una visita in ampiezza di questo grafo mi restituirebbe i vertici nell'ordine s r w v t x u y quindi proprio non sono collegati perché salta zompetta da sinistra a destra proprio perché non segue un raggio ma segue le circonferenze che si espandono e quindi quando va sulla circonferenza successiva sta esplorando direzioni diverse rispetto a quella a cui era arrivato nelle circonferenze più interne e questi metodi queste classi ce ne sono molte c'è una interfazza generale che è graph iterator e poi ci sono i vari tipi di iteratori che hanno in comune il fatto che attraversano il grafo con criteri diversi c'è il breath first iterator che corrisponde alla visita in ampiezza c'è il depth first iterator qua che corrisponde alla visita in profondità sono le due che abbiamo visto e poi ci sono altre visite che in qualche modo estendono il concetto di visita del grafo ma con criteri diversi ad esempio ce n'è uno questo qua potrebbe essere carino random walk iterator random walk vertex iterator questo qui che va a caso sono su un vertice vado a caso su quello successivo su uno di quelli successivi a caso e così via fino a quando non mi fermo non è detto che raggiunga tutto il grafo ma ne esplora una parte oppure ad esempio questo closest first iterator che è simile alla visita in ampiezza la visita in profondità è più simile alla visita in profondità ma anziché fare ricorsione sul primo che trova sul primo adiacente libero che trova fa ricorsione sul più vicino su quello ha senso sui grafi pesati e dice vabbè se ho 5 strade prendo quella più breve di peso minore che non mi garantisce di avere complessivamente un percorso di peso minimo ovviamente ma perché non è detto che ogni volta prendere la via più breve mi porti a un percorso complessivamente ottimale ci sono vari criteri che possono essere usati noi useremo praticamente solo la visita in ampiezza con l'improfondità ma le varie classi implementano metodi diversi di scoperta dei grafi allora essendo un iteratore questa classe ha i classici metodi degli iteratori quindi ha il metodo asnext che è un booleano vero o falso che ti dice se ci sono ancora se ha finito di visitare il grafo oppure no e il metodo next che restituisce il prossimo vertice e passa a quello successivo questi mi permettono facilmente di costruire l'insieme dei vertici raggiunti perché basta che io man mano che iter li aggiunga ad un set o ad una lista non mi danno da soli l'albero di visita non viene istituito l'albero di visita se non con un meccanismo un pochino più complicato dei traverso la lista di cui però oggi non vorrei entrare per quanto riguarda invece la visita semplice si può fare semplicemente e nei 5 minuti che ci rimangono ci riusciamo proviamo a farlo proviamo nel nostro public void visita grafo da una fermata di partenza come faccio da una fermata di partenza a trovare le fermate adiacenti le faccio usando appunto uno di questi iteratori proviamo ad esempio prima con l'iteratore in ampiezza avrò un oggetto della classe graph iterator chiaramente firmato con i generics del mio grafo quindi fermata default edge iteratore o visita uguale new bread first iterator sul grafo quando io inizializzo l'iteratore lo inizializzo la struttura dati per partire dal vertice di partenza che che devo specificare come secondo parametro se non sbaglio ho due parametri qui in realtà il costruttore può avere un parametro solo cioè il grafo ho due parametri cioè il grafo e il vertice di partenza se non specifico il vertice di partenza lo sceglie lui però non è molto utile può essere utile per scegliere dammi tutti i vertici raggiungibili ma da dove scegli un vertice di partenza a caso e lo visita a partire da lì a noi serve di più la versione con due parametri che sono appunto graph il primo parametro e fermata lo start vertex il secondo parametro e poi semplicemente andiamo a iterare quindi while visita punto as next finché hai vertici successivi fermata f uguale visita punto next dammi il vertice successivo poi cosa me ne faccio di questi f sono fatti miei li metto in un set li metto in una lista li stampo adesso proviamo a stamparli la teoria li dovrei raccogliere e usarli così ho l'insieme dei vertici raggiungibili quando l'iteratore è arrivato alla fine quell'oggetto è esaurito non si può più fare nulla quando ho trovato l'ultimo elemento e quindi se ci serve fare un'altra ricerca dovremmo creare un altro iteratore con un altro punto di partenza basta noi possiamo giusto per brevità visto che non voglio sprecare minuti diciamo alla fine della creazione del grafo possiamo provare a chiamare visita grafo e gli do passare un vertice di partenza un oggetto di partenza vabbè noi abbiamo fermate prendiamo la prima oppure attraverso il dmap prendiamo la fermata con un certo id non mi interessa devo scegliere uno di partenza e a partire da questo lui stamperà l'elenco dei vertici raggiunti attraverso l'algoritmo di visita in ampiezza vediamo se è vero ovviamente ne stampa 619 perché un grafo è connesso casualmente get di 0 era abes ma perché gli ho estratto in ordine alfabetico se ci ricordiamo della prima query e quindi livello 0 sarà questo abes da qualche parte ecco qua abes è qua come livello 1 ci aspettiamo di vedere queste due e infatti questi due elementi sono li adiacenti ad abes questo è livello 1 non c'è nulla che mi dica che dove finisce il livello 0 comincia il livello 1 è nella visita qua mi li dà in ordine sono io che conoscendo l'algoritmo riesco più o meno a capire cosa ha fatto poi dopo cosa mi aspetto avrò questa e questa quindi mi aspetto questo è Jujo Friend Anvers Saint-Georges e Blanche come livello 2 in un qualche ordine eccoli qua poi dopo mi aspetto quelli del livello 3 adesso la mente comincia a diventare complicato a tenere una traccia avrò questo qua il mercato dei pescatori Barb Notre Dame de Lorette Place de Crici e basta probabilmente che sono questi qua e così via ok? adesso li ho stampati normalmente li metterei in una lista in un set e poi ci faccio del lavoro o magari costruisco i cammini solo per farvi vedere la semplicità se io volessi fare una visita in profondità basta semplicemente cambiare l'oggetto e facendo Run vengono fuori gli stessi vertici ovviamente ma in un ordine completamente diverso Abbes, Pigal, Anver, Barb Gardu Nord Abbes, Pigal, Anver, Barb Gardu Nord si è subito allontanato è preso quella strada e è andato di lì cioè facessi conto sono gli stessi vertici ma raggiunti in un ordine diverso ok? la prossima volta ci mettiamo un'interfaccia utente davanti in modo da poter scegliere la stazione e cercare il percorso migliore da una stazione di partenza a una stazione di arrivo buona giornata a tutti grazie grazie Grazie.